Sarebbe stata uccisa Filomena Dantino, la novantenne ritrovata sabato scorso senza vita nell'abitazione dove viveva da sola nel piccolo comune di San Marco Lacatola, nel Foggiano, e i carabinieri hanno già arrestato il presunto responsabile su richiesta della procura. Infatti i militari hanno eseguito un fermo nei confronti di Felice Cassano, 29enne disoccupato del posto, con precedenti per reati contro il patrimonio che ogni tanto compiva lavori saltuari nelle case del paese. L'uomo che è accusato di omicidio preterintenzionale, rapina aggravata, oltre che spaccio di stupefacenti, interrogato dagli inquirenti, avrebbe fornito la sua versione di fatto confessando le proprie colpe. Dalle indiscrezioni che filtrano, il giovane si trovava a casa dell'anziana donna per mettere a posto della legna, poi per motivi ancora ignoti sarebbe nato un litigio a causa del quale il 28enne avrebbe prima spinto la vittima, facendola cadere e sbattere la testa, poi avrebbero vistato in giro mettendo a suo quadro i tre piani dell'abitazione. I carabinieri sono arrivati a lui sfruttando una serie di tracce indelebili lasciate in tutta la casa, tra cui impronte di scarpe da ginnastica. Da lì la perquisizione a casa dell'uomo che ha permesso di trovare, oltre a piccole quantità di droga, probabile, parziale e movente del fatto, anche abiti pronti per essere lavati in lavatrice già inviati a RIS per l'estrapolazione del campione biologico. Il presunto assassino al momento si trova nel carcere di Foggia, si attende la risposta del GIP che dovrà pronunciarsi sulla convalida dell'arresto.